Ma chi è a quest'ora il mio? Oh, chi è? Steve Jobs, chi? Steve Jobs Ma non era morto Invece se era vivo chiamava mia moglie Amore? Eccomi, arrivo È urgente? Chi è? Mamma? No Steve Jobs Ah, rispondo No, no, perché non parlo la lingua No, ma rispondi Ma che non parli la lingua Buonasera, Riccardo Buonasera, signora Masi Volevo avvisarla che il computer è pronto Ah, perfetto Ma come mai è ancora un lavoro a quest'ora? Straordinario E troppi video sinciro, signora E vabbè, allora passo domani a ritirare tutto Che ne so, verso le 7 Alle 7 va bene A domani A domani Buonasera È il tecnico del computer E lo memorizzi Steve Jobs Carino, no? Sì Quindi se chiama al meccanico compare Marchionne Ah, messaggio Ok, allora facciamo un gioco Che gioco? Eh, per la durata della cena Messaggi, Whatsapp, telefonate Quel che arriva, arriva Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme Tanto noi non abbiamo segreti, no? Italiano Academy Show De, Sacchinshò, Ciacchonshò O giusciò 20億円 o coeru Chioitechina Dai Hitto Fermi, fermi tutti Primo messaggio Voglio il tuo barbo Pronto, chi è? Sto cazzo! Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto C'ho voglia di scopare Tranquiete Che? Un ospizio Diretta a me Sei troppo innamorato di mamma Per capire quanta stronza Che sono piaciuti gli orecchini? A te? Erano per te? Non tanto Sono mesi che ho messo fiori Dammi quel telefono Dammi che cazzo di telefono! Fufu no Aina Gioca Sinio no Kizuna Che cazzo Tamesare続ける 96 punc No! E che qui qui spiccose? Se non mi cita quando sono ragazzi Non mi vuoi dire chi sei? 이게 tu non mi dice che sei senione Mi ha detto prima E non mi Wireless Se incredible Alla grande E che règza E chenamo Ilosione Dottor È molto E Commenzi